All'Est Square Londra ha ospitato la premiere di House of the Dragon, la nuova serie di Games of Thrones al cinema dal 22 agosto. Su Red Carpet non è mancato l'intero cast, come Emma Darcy nel ruolo della principessa Rhaenyra Targaryen, Tom Glyn Carney, che interpreta Aegon II Targaryen e tra i protagonisti Alison Hightower, interpretata da Olivia Cooke. Anche l'Italia era presente con i suoi influencer e artisti, ma di certo non sono mancati celebrità britanniche come l'attore Tom Hopper e la make-up artist da un milione e mezzo di follower su Instagram, Jamie Genevieve. Ciao London One Radio, credo che sarà incredibile e ameremo questa serie. È stata una serata speciale anche per il pubblico, come questa coppia, che ha vinto due biglietti per guardare il primo episodio. Ci siamo incontrati tre anni fa su una dating app e parlavamo di Game of Thrones, all'epoca eravamo dei fan. Ci siamo fidanzati, poi sposati, lo scorso maggio e un altro film di Game of Thrones è stato pubblicato. Questa sera siamo venuti qui alla premiere e abbiamo vinto i biglietti per guardare il primo episodio. Ma cosa si aspetta il pubblico dalla serie? Molta violenza e molte guerre, ma questo lo scopriremo soltanto al cinema. La De Noire Radio